Ciao Seba, non mollare, tutta la squadra in questo momento difficile ti avvicina e sa benissimo che grazie alla tua forza tornerai ancora più forte di prima, quindi ci aspettiamo presto e in bocca al lupo per una grande guarigione. Vips, ti saluto, sai che sto con te per sempre, sono quattro anni qua con te e sei diventato un grande amico per me, mi dispiace tanto cosa è successo, ma lo so che sei forte e quando rientri sarai ancora più forte. Ciao Vips. Ciao Seba, ho parlato con te, quindi voglio dire che ho guardato i miei piedi per te, ma vado bene e bocca al lupo. Ciao Seba, non mollare, tanto sappiamo che ritornerai presto tra di noi e abbiamo ancora più forte di prima. Dai, stringi i denti eh! Seba, siamo con te, torna presto. Ti stiamo aspettando, mi raccomando, veloce e vinciamo. Forse coraggio, guarici presto. Ciao Sebastian, ti vogliamo rivedere presto in campo. Forza Seba, torna presto. Dai Seba, siamo tutti con te, rimettiti alla svelta. Ciao Frey, torna presto. Un grande in bocca al lupo a Sebastian perché è un grande portiere e una grande persona. quindi che si possa rimettere il prima possibile. Forza Frey, in bocca al lupo e che tutto vada bene. Forza, datti da fare. Vai Seba, torna con noi presto. Forza Frey, torna presto. Sebastia, in bocca al lupo. Ciao日i. Guardiola sete.